Tutto ciò che di positivo ha portato l'Expo di Milano arriverà anche a FICO Italy World. L'edità della grande esposizione universale dedicata all'alimentazione, che ogni giorno richiama migliaia di visitatori da tutto il mondo, verrà raccolta dal parco tematico dedicato alle eccellenze agroalimentari italiane, che sorgerà al CAB di Bologna. Dalla tecnologia al modo di comunicare, dall'organizzazione alle strategie per evidenziare le caratteristiche dei diversi beni. In FICO gli spunti milanesi saranno tanti e molti arriveranno anche grazie al progetto WikiExpo. Abbiamo un bellissimo progetto che si chiama WikiExpo, che è partito per fare una sorta di censimento, di inventario di tutte le iniziative che si svolgono dentro, di cui poco si sa, per dire la verità, ce ne sono talmente tante. È un'esperienza di grande successo, c'è poco da dire, i dati lo confermano. Quindi per noi sarà un patrimonio di conoscenza che dovremo utilizzare e alla fine, 31 ottobre chiude, avremo il tempo per distillare anche tutte le esperienze innovative perché questo patrimonio, che si è accumulato in sei mesi di tempo, poi possa essere valorizzato scegliendo anche le cose migliori. Il parco tematico agroalimentare punta ad attrarre molti visitatori stranieri e anche ad essere un polo tecnologico innovativo. In FICO porteremo da una parte la cruda realtà del terreno, delle stalle, delle fabbriche, ma nello stesso tempo vorremmo anche portare un po' di multimedialità perché rappresenta quel futuro dove si può unire l'esperienza, diciamo, concreta, visiva, ma anche l'esperienza immaginifica che ci può portare un buon multimediale. D'altra parte anche il multimediale in Expo è fatto da aziende italiane. Quindi il Made in Italy anche in questo caso è forte.